Allora ragazzi, un saluto a tutti, siamo in diretta dalla Befana dei Bambini, in questo momento ci siamo appena incontrati in piazza Saffia Forlì dove ci siamo incontrati con le forze dell'ordine, Gerry, la Nico e Roby, come vedete ci stanno scortando nei centri d'accoglienza dove consegneremo oltre i doni la raccolta benefica che abbiamo fatto, volete dire qualcosa? Siamo sulla Romagna Boys Mobile, perché con le restrizioni che ci sono ovviamente non si poteva fare altrettanto, altrimenti oggi è andata così, speriamo nei prossimi incontri vada meglio, anche la giornata non ci ha aiutato, la giornata proprio non è stata di grande aiuto, Gerry, sorpassa sta macchina qui davanti, che va piano, dai su, non porta bene, dai su, abbiamo polizia, carabinieri e visili urbani, possiamo solo scegliere chi ci ritira la patente, c'è anche il sindaco, abbiamo tutti oggi, dobbiamo solo scegliere chi ci ritira la patente. Allora, ringraziamo sempre tutti quelli che ci vedono, tutti quelli che hanno contribuito, che oggi non posso essere qui, è giusto per le ultime disposizioni, però hanno contribuito in quella che è stata la beneficenza e non saprei Roby, ti vedo che stai per dire qualcosa, ce l'hai lì, no no no, dopo mi arrestano dalla diretta, cosa che hai detto, no no, è meglio evitare, no no, non volevo evitare quel bel van di alta arancione, ecco quello che è dietro, forse no il BMW che c'ho davanti, va bene, i poliziotti non erano molto d'accordo, infatti, ci manca solo il lampeggiante oggi, anche per noi, che oggi non l'abbiamo usato, però, non lo dire, non lo dire che ti resta, era meglio usarlo, è arancione, va bene, va bene ragazzi, allora noi vi salutiamo, continuiamo quella che è insomma il nostro dovere cittadino, dove ci siamo impegnati nel sociale, e vi diamo l'appuntamento, approfittiamo il 13 febbraio, che è il compleanno del club, quindi gli speriamo che si possa fare un po' più di festa, esatto, e niente, per il resto, se volete ci iscrivete, noi vi rispondiamo, se non ci iscrivete non vi rispondiamo, ovvio, se ci pensate, vi iscriviamo, ciao ragazzi, un buon abbefano a tutti, ciao! Grazie a tutti!